Raga lo trovate esattamente quando il video si era chiuso, guardate Mentre sta frisciando Fa così C'è i guanti viola, c'è Bene Ok, andiamo a vedere un attimo una cosa Allora Abbiamo questa missione qui Questa missione qui Cosa è questo? Il re del cappuccio Indaga sulle segnalazioni di un vigilante mascherato a Gotham Questo è interessante Ma io voglio fare la missione principale Sono diretto alla Wink Se riusciamo a decendere i protocolli di sicurezza di una maniera di aca Riusciremo a rimanacciare Se credi potessi rascondere sono stati vicini Una brutta sorpresa Ho sentito di un mandato Ho sentito, raga, avete sentito quei... Ah no Ah, è lui Ma è lui? Ma è lui? Ma è lui? Ma gira così normale? Vabbè, no Mi sa che non possiamo interagire con lui Però figo, raga, cioè Ah, tra l'altro siamo arrivati Lol Oh, devo entrare Ok Ok Sì, sta zitto Ciao, Lucius Finita la decriptazione Tutto decifrato Ho inviato tutte le comunicazioni radio-recenti della milizia e relative coordinate sul suo terminale Grazie, Lucius Cercando l'impronta vocale del Cavaliere di Arkham Determinerò la fonte dell'ultima trasmissione Eh, quindi Cioè, fai, è Batman, ok No, batte Qua Qua Identità confermata Buonasera, signor Wayne Grazie Sì, su cosa sta cliccando? Non ho aspettato abbastanza Vado a morire Stato a te Ricerca in fronte vocale nelle comunicazioni Posizione verificata Bene Il Cavaliere trasmette dalle gallerie di Nia Gagnano Lieto d'essere d'aiuto, signor Wayne Già che è qui, abbiamo sviluppato degli altri upgrade per la sua foto Ci dica in quali aree e concentrare gli sforzi Mi piace questa Giusto Bene Io direi che chiudiamo qui il video, raga Perché abbiamo scoperto un sacco di cose Sono qui Alfa, ho individuato il Cavaliere nel sistema di tunnel di Nia Gagnano Allora, aspetta Parliamo con l'aria Ricevuto Aspetta che arrivi lì Vorrei costare la sorpresa Ma vestirti da VIP meno interessante di tutta Gotham E una più che ottima copertura Non c'è stato reso di fare una sorpresa Speravo di tenerlo nascosto finché non fosse pronto Disturbatore di nuova generazione Sarà colpito in un paio di sé Pensato a un'aggrande Dovrei riuscire a consegnarlo questa sera Grazie Lucius Potrebbe dubito sia una buona idea a sfidare con la tutta di Batman davanti all'assistente di Lucius Ok Eh, ma perché devi sempre fare così? Ah, tutta di Batman Ma però non posso cambiarmi Ah, oh sì Aspetta Forse era parla con Lucius Eh, infatti Bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video Joker è scomparso ancora Appare scompare quando cavo di para 2 Ci vediamo Al prossimo video Bella Con un pugno in faccia